salve a tutti signori io sono lorenzo e questo è il mio canale espertoni benvenuti bene oggi voglio partire da qui per quest'auto perché è un'auto veramente favolosa un'auto che economica per tutta la famiglia per me perché con un bagagliaio del genere potete anche stendere tranquillamente non penso ci siano altre auto con queste dimensioni perché parliamo di un'auto della categoria b è un 4 metri e 10 è un crossover perché dopo andremo a vedere per vari motivi esiste anche la versione normale non step away ma street way che è più bassa ma è un'auto economica e che ci fa risparmiare molti soldini e al giorno d'oggi servono è una tra le auto più vendute in europa è tra le più vendute in italia insieme anche alla sua sorella maggiore che la duster ed è un'auto veramente pratica e confortevole bene in questo caso qui abbiamo la versione 1000 tce a gpl quindi è un motore 1000 turbo tre cilindri che sviluppa 100 cavalli è lo stesso motore che ho io sulla mia capture e messo su quest'auto che pesa 150 kg in meno beh signori va molto molto bene in più anche sei marce comunque dopo se riesco vi porto a far vedere come va in strada ha un bagagliaio di 400 litri neanche sub di categoria superiore non hanno un bagagliaio così grande è anche ben rifinito perché comunque due ganci per appoggiare le borse alla luce di cortesia a altri due ganci il doppio fondo è veramente io ci sto dentro sono un metro e 80 posso stendermi tranquillamente se devo caricare qualcosa è veramente eccezionale bene quindi adesso andiamo a vederla per fuori anche se la conoscete già recensioni ce ne sono tantissime ma voglio farvela vedere questa è la versione comfort è una versione particolare che adesso non si trova più è una versione comunque che già un anno di vita e abbiamo anche un po di chilometri è un'auto cortesia è un'auto che mi ha dato miglior auto la concessionaria di san stino di livenza che ringrazio tantissimo davide federico ogni volta sono sempre disponibili a consegnarmi le auto e se volete andare a vedere comunque mi lasci in descrizione la concessionaria e abbiamo un'auto che è veramente sono rimasto veramente impressionato da quest'auto beh andiamo a vederla esternamente e poi internamente come va ok sono uscito al bagagliaio e adesso diamo due misure di questo bagagliaio perché è veramente enorme allora abbiamo una profondità di 68 centimetri 67 circa una larghezza di un metro e 0 3 ed un'altezza di 41 centimetri ma c'è il barbatrucco perché qui abbiamo un ripiano che possiamo andare a regolare questo bagagliaio normale se vogliamo avere ancora più litri alzo questo qui come vedete hanno pensato anche questo che si blocca e quindi mi resta ferma lì così se devo prendere qualcosa e andiamo ad aumentare ancora l'altezza di altri 16 centimetri è veramente enorme avete visto che prima ero dentro quindi complimenti ad accia per questo bagagliaio e come l'hanno studiata perché sono veramente stati bravi molto bravi bene adesso facciamo una visitina all'auto da fuori poi andiamo a vedere gli interni e magari poi andiamo a fare una provetta eccoci qua quindi partiamo sempre dal bagagliaio che sono rimasto veramente colpito per quest'auto e l'auto si presenta così vedete che abbiamo dei particolari in plastica per non rovinare la carrozzeria qui abbiamo vi faccio già vedere il serbatoio della benzina il tappo del serbatoio della benzina e il tappo del serbatoio del gpl non ripete questa è la versione doppia quindi con il gpl e anche la benzina abbiamo dei particolari oltre che queste plastiche appunto per non rovinarla abbia è anche rialzata di 3,9 centimetri quindi 4 centimetri quasi più alta frontalmente è molto bella abbiamo i fari full led che vedete qui le lampadine però del delle frecce sono ancora a filamento e così anche per quanto riguarda i fari alti abbaglianti sono alogene e così anche per i fendinebbia quindi i led sono sulle luci di posizione che vedete questa striscia qua e sui fari an abbaglianti frontalmente abbiamo il nuovo logo di dacia come vedete questa è la d e la c di dacia versione step way e si presenta così molto carina e rialzata perché è un bel rialzo per me è un'auto per tutta la famiglia perché è spaziosa e possiamo usarla tranquillamente anche per gite fuori porta tranquillamente qui abbiamo il sensore e radar per l'anticollisione che tutte le auto tutte le step way in questo caso la sandero step way sono sono tutte già predisposte dell'anticollisione eccoci qua abbiamo in questo caso qua dei cerchi in plastica le coperture di cerchi in plastica ma esiste anche la versione extreme che adesso vi lascio sotto qui delle foto e che sono neri diamantati sono da 17 in questo caso qua abbiamo dei delle gomme da 205 barra 60 raggio 16 anche i specchietti sono diversi di colore dalla carrozzeria e in più abbiamo queste barre qui che sono fantastiche qui si possono alzare si alza questo spazio qua si molla la vite che c'è qui e loro girano di 90 gradi in modo da usarla come porta pacchi anche qui abbiamo scritto step way che invece sulla versione extreme qua è arancione non ha l'antenna shark e dopo andiamo a vedere che non ha neanche la radio perché questa è una versione particolare al 99% la troverete sempre con la radio questo è un modello particolare che ne dite a me piace perché ha questo questa linea da crossover è molto molto spaziosa torno a ripetere bene andiamo a vedere gli interni anche frontalmente dai è bella è bella e basta di sicuro non siamo su un'auto lussuosa stiamo parlando di auto che costano anche dai 15 18 mila euro dipende dalla versione ed è completa già di tutto quello che ci serve andiamo a vedere gli interni allora in questo caso abbiamo la versione appunto vi dicevo comfort che non troverete più a listino ma non ha l'isi access quindi non ha la chiave da tenere sempre in tasca ha una chiave normalissima con comando qui abbiamo la maniglia per tirare e si apre e qua in caso che non funziona più la batteria abbiamo la chiave normalissima e si presenta così allora plastiche di sicuro belle rigide ma che sono molto pratiche nel lavaggio qui dove appoggiamo il gomito è bello morbido e abbiamo quattro finestrini elettrici con il blocco delle finestrini per quanto riguarda il nostro i nostri posti posteriori se abbiamo dei bambini abbiamo anche la regolazione degli specchietti direttamente sempre elettrici una bella maniglia satinata e qui sotto sempre plastica bella croccante se non ripeto le plastiche croccanti sono belle perché vanno pulite velocemente eccoci qua qui abbiamo entrando il tasto del gpl perché se non ripeto è sempre la versione bifuvel abbiamo questo richiamo dell'arancione che troviamo anche direttamente sull'extreme il nuovo logo dacia i comandi al volante per quanto riguarda cruise control e limitatore di velocità qui dopo abbiamo per quanto riguarda il menu che andremo a vedere sul display e come vedete non c'è l'autoradio perché in questo caso qua non abbiamo il media nav che andrebbe messo qui che sarebbe lo schermo suo ma ha un sistema di autoradio qui alzo metto il mio cellulare e il cellulare mio mi fa da autoradio ecco la plancia vista dalla posizione del guidatore è così quindi vi si presenta in questo modo qua non ha rifiniture particolari o comunque rifiniture wow in pelle eccetera abbiamo un bel tessuto qui che dà un senso di caldo un bel senso di morbido poi abbiamo plastiche rigide sentite non plastiche morbide soft touch ma comunque pratiche da pulire torno a ripetere e anche non si sentono vibrazioni non si sente veramente nulla abbiamo la nostra console che è tutta analogica per quanto riguarda i contagiri e i contachilometri e un piccolo display interno dove possiamo andare a cambiare le varie funzioni consumo vedete questo è il consumo della benzina istantaneo autonomia percorso eccetera poi magari se facciamo un giretto riesco a farvi vedere le varie funzioni eccoci qua la nostra plafoniera centrale tutte quante hanno la chiamata di emergenza quindi la SOS qui in caso di incidente eccetera speriamo mai abbiamo lo specchietto anche per guardarci e non retroilluminato e poi dietro eccoci tre maniglie quindi sui posti posteriori per quanto riguarda il passeggero abbiamo la maniglia per uscire le cinture non sono regolabili in altezza come vedete abbiamo comunque anche il bracciolo che vedete qui per appoggiarsi quindi molto comodo il freno a mano il freno di stazionamento è comunque manuale il classico freno a mano due porta bicchieri altro svuota tasche e poi abbiamo qui che vedete un altro svuota tasche presa accendisigari il climatizzatore in questo caso è un climatizzatore comunque manuale esiste anche la versione Xtreme che in caso vi lascio sotto qui il classico climatizzatore Renault Dacia con i tasti scusate con le manopole che si possono regolare direttamente tutto automatico qui abbiamo un vano porto oggetti anche qui le spazio ne abbiamo e anche sulla maniglia e scusate anche sulla porta abbiamo comunque i nostri bei spazi un bel tessuto dei sedili veramente comodi i sedili sono molto comodi come il classico da Renault e guardate è bella spaziosa adesso io sono con il sedile regolato sulla mia altezza e adesso andremo a vedere come si sta dietro seduti ok proviamo a salire dietro così vediamo anche come si sta seduti con il sedile regolato sulla mia altezza eccomi qua altezza del sedile tranquillo posso stare tranquillamente penso che anche una persona da 1,90 m ci sta tranquillamente in larghezza sì ci si può stare anche in 3 non penso meglio sempre in 2 viaggiare ma anche in 3 si sta bene e poi volevo farvi vedere per quanto riguarda le gambe eccoci qua lo spazio che c'è se non ripete siamo su un'auto di segmento B non siamo su un super SUV enorme un'auto da 4,10 m e guardate che abitabilità che ha secondo me è eccezionale un'auto che se la consideriamo economica un'auto che non costa uno sproposito ha tutto quel che serve per una famiglia che vuole viaggiare una famiglia che vuole andare a farsi la spesa una persona che vuole andare a lavorare quest'auto è un'auto che va bene per tutti secondo me perché una famiglia qui può andare tranquillamente dove vuole e anche di bagagliaio ne abbiamo spazio all'interno ne abbiamo abbiamo un motore che consuma pochissimo perché siamo intorno ai 14 km con un litro di GPL che adesso siamo a neanche 70 centesimi quindi quasi due volte e mezzo la benzina in meno eccezionale e questo motore vedetemi che spinge bene io ce l'ho sulla capture e va molto bene e qui va ancora meglio comunque dopo andiamo a provarlo perché giusto se riesco a farvi capire quanto va eccoci qua adesso vi faccio vedere la plancia vista da dietro che magari così riuscite a capire meglio questo è visto da dietro da chi è seduto dietro i materiali secondo me sono materiali buoni non sono materiali eccezionali ma alla fine guardiamo l'auto che mi deve portare da A a B se la guardiamo così quest'auto è eccezionale e più di queste non possiamo risparmiare di sicuro anche nei consumi poi nei tragitti abbiamo anche anche i poggiatesta dietro come vedete bene bene si sta veramente comodi su ok adesso andiamo a provarla e poi vediamo le conclusioni bene accendiamo l'auto ok lei parte sempre a benzina per poi passare a GPL quindi andiamo a provare freno a mano bisogna toglierlo non è come quelle elettrici che si tolgono da soli raggio di sterzata molto buono secondo me ed eccoci qua si chiudono le porte adesso siamo su una strada che ha un po' di viaia vedete che comunque è molto lineare adesso magari andiamo a provare un attimino come va il motore qui adesso siamo nel paese facciamo la nostra bella rotonda adesso provo già in seconda siamo usciti dal paese sentite va molto bene è un bel un bel sprint di sicuro adesso rientriamo in paese quindi rispettiamo i nostri limiti bene adesso mezzo in quinta comunque sentite come spinge siamo fuori del paese posso arrivare fino a 90 all'ora cioè anche a così in quinta a 2200 giri adesso metto in sesta qui c'è il limite dei 90 quindi adesso siamo fuori della città allora a 90 all'ora quindi su strada extraurbana che è il limite siamo a 1800 giri del motore in sesta ok qui adesso io scalo voglio fare una piccola ripresa ma rifaccio qua sono in terza a 50 all'ora cioè un 1000 trancelline così a GPL secondo me va molto molto bene poi ha la sesta Marsa che è una sesta di riposo perché abbiamo un motore che lavora molto molto basso e va bene il motore si sente un po' perché si sente logicamente però lui viaggia bene molto bene ok sono quasi arrivato al parcheggio adesso scendiamo e vediamo le conclusioni di quest'auto bene signori siamo arrivati alla conclusione del video che dire a me quest'auto è piaciuta tantissimo purtroppo non sono riuscito a trovare un'auto magari che avesse già un anno di vita con un po' di chilometri giusto per portarvi anche una testimonianza vera quest'auto è un'auto comunque della concessionaria tra mi ripeto è il miglior auto che ringrazio tantissimo che sono sempre disponibili e però per quel poco che ho potuto provarla secondo me i 14 chilometri con un litro di GPL li fate tranquillamente poi dipende sempre dal piede e comunque abbiamo un gran risparmio perché anche se facciamo mettiamo 12 con un litro e lo moltiplichiamo per due volte e mezza e quindi andiamo sul costo reale del GPL è come fare un 27-28 con un litro di benzina e sfido qualsiasi altra auto comunque ibrida o full hybrid eccetera a raggiungere questi risultati qua è comunque un'auto spaziosa economica risparmiosa in tutti i sensi e secondo me è un'auto adatta anche per tutta la famiglia magari non ha la linea del super SUV che adesso vanno però comunque è rialzata da terra ha un'auto con una bella estetica soprattutto il frontale a me piace tantissimo e che dire magari per le prove dirette sarebbe meglio andare in concessionaria e provarla veramente perché io non riesco a farvi capire quanto è la ripresa quanto va veramente ma credetemi che anche in montagna in qualsiasi in pianura questo motore qua è eccezionale è un tre cilindri che veramente ha una buonissima coppia e va molto molto bene anche provato sulla Duster provato sulla mia Captur e provato anche sulla Clio che comunque la meccanica qui è tutto della Clio bene signori se il video vi è piaciuto mettete un bel like iscrivete al mio canale è gratuito non serve niente basta solo premere i tasti iscriviti così mi aiutate a crescere a portarvi altri contenuti e attivate le tasto notifiche grazie a tutti arrivederci